Ciao a tutti! Oggi prepareremo le tagliatelle cremose alle erbe. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono tagliatelle, panna da cucina bimbi, prezzemolo, mandorle, rucola, basilico, olio evo, sale, pepe, acqua, sale, mandorle a lamelle e scaglie di grana. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mandorle, il basilico, il prezzemolo, la rucola ed azioniamo il bimbi per 20 secondi, a velocità 7. Uniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio, il sale, il pepe ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 7. Uniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la panna e facciamo insaporire per 3 minuti 100 gradi, velocità 2. Trasferiamo il composto in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, aggiungiamo l'acqua, il sale e portiamo ad ebollizione per 7 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo la pasta e cuocere il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 9 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Scolare la pasta e mettere da parte mezzo il misurino di acqua di cottura ed aggiungere al composto alle erbe. Impiattare spolverizzando con lamelle di mandorle e scaglie di grana. Tagliatelle cremose alle erbe. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!